Ehi Gina, hai finito di farti la tua letta, eh? Dimmi. Allora, io sto ascoltando per tv la Andrea Serielli in diretta della Scala di Milano. E te? Sei assolta ad ascoltarla? Oh, ti piace, vero? Dimmi. Ehi, parlo con lei, signorina. Ruffiano, guarda che roba. Guarda che roba. Ehi, guardami bene in faccia. Sono di qua, no? Di A. Bu, allora, questa è la televisione. Dove va tu? Scusa un attimo. Ah, la lascio a sedia. Non la voglia di ascoltarmi. Aspetta perché sto smanettando, sto facendo. Aspetta un attimo, sono qua in casa. Casa mia, come si vede, questa è casa mia. Può essere buio, vado. Sto lavorando qua in cucina. Questo è il vino che ho fatto per... Oh, qua. Oh, sta bruciando. Questa è l'anatra. Non è l'anatra. Non c'è il modo come che fai, mia figlia di ammette. Chiudo, aspetta un attimo che lo metto. Guarda, sentimi colpire. Donna. Aspetta, 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 aspetta. Con la mano a sinistra non posso far tante robe. Inoltre, la figlia di ammette. Che non si... Che non si bruci. Allora, aggiungo un po' d'acqua. Fintanto che... Gio, ha già messo il vino. Eccolo qua. Tavanello? No, è il tavanello. San Grespino? Ronco! Ti ho pensato a mia che fa l'anatra e la spaghetta. No, non penserete mica... Non penserete... Non penserate... Non penserute. Immaginate se io butto via il cartista... O il... Vabbè, basta aver capito tutto. Prendo ancora il mio... Copacchio, lo metto qua sopra. Eccomi qua. Aspetta, 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 che andiamo a vedere. La mia moglie mi ha telefonato. Chiuditi dentro perché... Io sono tanti ladri. Attorno? Sì, ma guarda, io sono tutti in Parlamento. Noi attendiamo da arrivare qua. Ragazzi, io vado attorno per la mia casa, vado a controllare. Guarda che bella, queste sono fatte da mia moglie. E qua... Il mio soggiorno... No, no, questo è l'entrata. Soggiorno, computer! Superinformatici. Aspetta, 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 aspetta. E questo qua cos'è io? Questo qua l'impianto stereo 120 RMS. Questo è il computer della mia moglie che poi lo farò io. Questi sono tutti gli impianti. Gold... Gloob... Cos'è io? Surround. Posso finire? Basta, ho chiuso. Torno in casa, è rapignata. A me fa lo stesso anche si. Il coniglio me fa lo stesso anche a sentir l'impianto di far gioie. Ecco è, bene. Chiudo. Saluto a tutti.